Siamo a Chantry Lane, sempre in centro. Qua è una vecchia, stiamo in centro Londra. Ho lavorato oggi a Amazon, una compagnia tipo ebay. Qua c'è... ...e un uomo con le ali. ...e un uomo con le ali. Una statua... ...e un uomo abbastanza vecchia. ...e un uomo. ...e un uomo. ...e un uomo con leadedze. ...e un uomo sullisco da oggi per nulla. Lavorato quattro ore, si può sopparare spesso, che merda, si sta pupendo il sole, ecco, attesa, e attraversare, attraversa, da 1800. Facciamo il reporter, carino, più di male. Ecco, la madre Teresa, che sarebbe, sarebbe la Madonna, la regina. E' la regina, qua c'è le chiavi. Siamo in pieno centro, Chandler Lane, ecco, quello è il palazzo di Amazon. Ed è tutto per il momento. Goodbye.